Michele, Chelo, non è il risultato sicuramente che vi aspettavate, ma oggi era complicata, l'hanno detto anche i tuoi compagni in sala stampa Sì, era molto molto complicata perché il campo era quel che era, un po' bagnato, però secondo me non sono scusanti forse c'era un po' di vento che ci impediva di giocare come di solito noi giochiamo, però noi volevamo vincere però meglio ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, meglio non perdere Hai avuto anche qualche occasione, anche lì rimbalzi, conclusioni causate proprio dal terreno di gioco non ottimale le avete avute soprattutto nel secondo tempo, dopo che nel primo tempo il prodottore Pina aveva fatto un miracolo sul giocatore avversario Sì, abbiamo avuto le nostre occasioni, secondo me abbiamo fatto nonostante tutto la partita noi dovevamo un po' arrangiarci con il tempo che c'era, con il campo che abbiamo avuto oggi potevo fare meglio anche io, però come ho detto prima ci prendiamo questo punto e pensiamo alle prossime partite Grazie Michele